ciao a tutti sono lorenzo cozzarini e bentornati nel mio canale youtube oggi andiamo alla scoperta di ciao a tutti esattamente siamo arrivati al monte quarin andiamo un po impegnativa ma non impossibile anche per il paesaggio da paura ed eccoci arrivati alla chiesa sul monte quarin è un po' Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti